ci fai un ricordo su fratelli d'italia con gianne sabrina salerno ah beh guarda quel film lì quel film lì è stato un film di ripartenza del genere comico perché a un certo punto si era sparsa la voce che che i film comici non andavano più è il grande achille manzotti che da lassù purtroppo ci guarda e decise di andare controcorrente e chiamò me christian de sicca e massimo bondi dai facciamo tre episodi che ritorniamo ritorniamo in sella sulla comicità italiana abbiamo fatto questo questo film il mio episodio bellissimo perché con eri parenti abbiamo girato a verona dove io abito quindi ero a casa infatti tanti attori attori insomma chiamiamoli così sono miei miei amici insomma e poi bella grande sabrina salerno che era mito assoluto degli anni ottanta che è ancora nei sogni e nelle fantasie degli italiani e poi un grande attore che era già già fabio bosco ma un attore straordinario che fece la parte appunto del signor sauli in una maniera straordinaria io gli ho voluto molto bene a già molto molto bene molto molto molto